E' chiaro che parlare di calcio e della partita in questo momento è difficile, siamo contenti però che il ragazzo si è ripreso bene, chiaramente dovrà stare sotto osservazione ma abbiamo temuto veramente il peggio, in quel momento pensare alla partita pensavamo a tutto, meno che alla gara, all'impegno che c'era da affrontare e all'avversario. Noi siamo stati bravi poi in inferiorità numerica comunque a non mollare mai, a crederci fino alla fine, siamo riusciti a trovare questo 2-1 che chiaramente in quel momento poi abbiamo difeso coi denti, anche perché eravamo in inferiorità, il Matera aveva una superiorità territoriale, ci buttava la palla dentro, però tutto sommato ci siamo difesi abbastanza con ordine. Guarda, io dicevo ai colleghi che ero proprio dalla parte opposta dove è successo l'episodio. Beh sì, credo che qualcosa del genere, immagino, l'ho rivista, certo è che la scena si presentava veramente drammatica, dobbiamo ringraziare il nostro medico, dobbiamo ringraziare anche il medico della squadra avversaria che poi ho corso sul posto, lì per lì insomma si temeva per il peggio, poi l'abbiamo mandato in ospedale, subito dopo in contatto con Idaro Levolo che aveva accompagnato il nostro medico sociale, ci rassicurava che si era svegliato, anche se non si ricordava nulla di quello che è accaduto. I tre punti li dedichiamo a Supermendo, dai!